Dopo quasi otto ore di discussione, il parlamentino lucano si è espresso sulla mozione di sfiducia al presidente Bardi, presentata dai consiglieri regionali di Italia Viva, Braia e Polese, e sottoscritta dai consiglieri di opposizione Pitella, Cifarelli, Trerotola, Perrino, Leggeri, dalla Carlucci, al posto della quale però subentrò in aula dopo la pronuncia del Consiglio di Stato il consigliere Giorgetti, che fu riuscito dal Movimento 5 Stelle e non ha sottoscritto la mozione, e dei due consiglieri di maggioranza Zullino e Viziello. La mozione, secondo quanto dichiarato dai firmatari, contestava in primis lo stato comatoso in cui versa la maggioranza regionale e l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia del capologo Lucano sulla sanità, che ha aggravato il già precario stato di salute della maggioranza politica, tanto che all'indomani dell'ultimo rimpasto di giunta il Consiglio regionale stentava a riunirsi e a deliberare, a causa della frequente mancanza del numero legale che portò anche poi il passaggio all'opposizione dei due consiglieri di maggioranza Viziello e Zullino. Con dieci voti contrari ed otto favorevoli, la mozione è stata respinta. Vi lasciamo lo strumento della mozione di sfiducia, ma nessuna mozione di sfiducia, nemmeno la più temeraria, potrà mai riscrivere la storia della Basilicata, ha affermato in conclusione del suo intervento il presidente Bardi, rivolgendosi alle forze politiche sottoscrittrici della mozione. A noi spetta il compito di lavorare per le future generazioni di Lucani, ha poi aggiunto il governatore. All'oro va il mio pensiero, la mia dedizione, il mio impegno, rivolto unicamente solo alla Basilicata. Io posso dire a voce alta che non ho altri interessi al di fuori della mia Basilicata, ha concluso Bardi.